La memoria del dolore non viene seppellita dai giorni, nemmeno quando si sommano e danno una cifra importante, 99 anni. È così che Quinto Nunzi di Civitanove Marche in provincia di Macerata fa causa alla Germania per tutte le sofferenze fisiche e psichiche subite a Mesovize, campo di concentramento in Polonia alle strette dipendenze di Auschwitz. Fa causa e chiede un risarcimento di 130.000 euro, pochi spiccioli in fondo rispetto alle ferite dell'anime e del corpo che si porta dietro, una sorta di bagaglio cucito addosso come una stella di David sulle divise a righe dei Lager. Questo vecchietto mite, ma deciso, viene a chiedere giustizia, una piccola e parziale giustizia 78 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Quinto ricorda chiaramente gli anni tragici da internato militare. Mostra la croce al valore militare, le foto dell'epoca e i documenti che attestano la sua prigionia durata tre anni. Tre anni e un mese. È la malattia come una bestia. Non vediamo noi a morire perché soffriamo tanto, tanto. Ora dunque il desiderio di un risarcimento si trasformerà in un'azione civilistica presso il Tribunale di Roma nei confronti della Repubblica Federale Tedesca attraverso gli avvocati Alessandra Piccinini, anche presidente della sezione Ampi di Cingoli e Apiro, e Dino Gazzani. La prima udienza è fissata per il prossimo 9 giugno.